Parliamo oggi degli invisibili, senza tetto, che vivono anche nel biellese. Qual è la loro situazione ai tempi della pandemia? Il rischio di contagio unito alle temperature rigide mettono in ulteriore difficoltà coloro che già sono fragili e dimenticati. Il progetto Emergenza Freddo e Attivo da novembre coinvolge numerosi attori, dai consorsi Iris e Cissabo, in collaborazione con la città di Biella, Caritas Diocesana, supporto economico della Fondazione CRB ed ancora fondamentale la presenza di una forte rete territoriale, con la collaborazione di ASL, Croce Rossa Italiana, CTV, ATS, Accoglienza Plurale e molti altri. Veniamo ai dati. La presenza media è di 19 persone a notte, 11 presso il dormitorio, 8 in accoglienza diffusa nelle strutture Caritas. Le persone transitate da novembre ad oggi sono 51, 36 presso il dormitorio, 15 in accoglienza diffusa. Si tratta prevalentemente di uomini, il 90%, e la maggior parte degli ospiti ha una residenza in provincia, il 63%, mentre il 27 è privo di iscrizione anagrafica, il 10% ha un'ultima iscrizione fuori provincia. Dall'avvio ad oggi lo spazio diurno è stato utilizzato da 15 persone, con una presenza media di 3,2 persone al giorno. Tenuto conto che può accogliere fino a un massimo di 10 persone, si tratta di una media piuttosto bassa, derivante dalla presenza di alternative. Diversamente dal primo periodo della pandemia, i supermercati, i centri commerciali sono aperti, come i bar ed altri luoghi di ritrovo. Tuttavia, la situazione di incertezza correlata all'andamento della pandemia e la fragilità della condizione delle persone senza dimora induce a ritenere importante l'offerta di un servizio durante la giornata. 28 i percorsi attivi a favore di persone residenti sul territorio. Per quanto concerne il genere, pur confermandosi la maggiore presenza maschile, con il 71%, la presenza femminile è più rilevante rispetto alla pronta accoglienza. Il 29% di donne a fronte del 10%. E prima di accedere ai servizi viene somministrato un tampone rapido.